Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi breve video unboxing semplicemente perché oggi è giornata di registrazione e tipo il quinto o sesto video che sto registrando, avevo questi tre pacchetti da parte e ho detto vabbè buttiamoli dentro e registriamo. Ragazzi io vi voglio mostrare subito questa busta che aspettavo da tanto tempo, mi è stata inviata due volte perché la prima naturalmente poste italiane l'ha persa e io ringrazio tantissimo il negozio Etsy Schegge di Cinema che trovate anche su Instagram, naturalmente vi lascio tutti i riferimenti sotto in info box e mi sono stato contattato perché mi è stato detto vorresti dei segnalibri realizzati con le pellicole originali dei film di Harry Potter e ragazzi manco a dirlo, ho detto subito di sì e mi è sembrata un'idea fantastica e non vedevo l'ora di condividerla con voi e di farvi conoscere anche questa. Quindi apriamo immediatamente la busta, vediamo cosa c'è scritto, dentro c'è anche una lettera vedo già dei pezzi di segnalibro, non vorrei spoilerarmi tutto, quindi ok. Ok, posso leggervelo ed è anche molto interessante Caro Antonio, ti invio con grande piacere alcuni dei miei segnalibri. Come scritto nella mia pagina e come forse già saprai questo progetto è nato un po' per caso. È nato per quelli che, come me, amano visceralmente il cinema e i libri è nata perché non potevo permettere che queste pellicole che tanto ci fanno e ci hanno fatto sognare andassero distrutte. In ognuno dei segnalibri troverai un pezzetto della pellicola originale del film tra parentesi del trailer per essere precisi e quindi ognuno di essi è assolutamente un pezzo unico e irripetibile In alcuni di essi si noterà un cambio di scena, altri troveranno fotogrammi tutti uguali perché appartenenti a scene più lente, ma in realtà ci sono differenze impercettibili A mio parere, indipendentemente dalla scena, il valore del segnalibro è quello di poter materialmente portare con noi un pezzetto del film che tanto amiamo Un pezzetto che è nostro e solo nostro Spero che la mia idea ti piaccia Mi è piaciuta immediatamente Io la trovo fantastica e ricordo benissimo dove hai trovato queste pellicole quindi davvero, io ragazzi vi consiglio tantissimo di acquistarli e vi lascio i link sotto Ok, adesso dopo questa pausa ho perso il segno, ero arrivato qui Se i miei segnalibri ti sono piaciuti ti sarei immensamente grata se parlassi un po' di me Taggami con Schegge di Cinema Quindi ragazzi ve ne sto parlando con tantissimo piacere e poi alla fine troviamo Grazie per avermi scelta Buon cinema e buona lettura Con affetto Nadia Caterina Schegge di Cinema Grazie, grazie davvero tantissimo Questa lettera andrà assieme a tutte le altre che mi avete inviato in questi anni e adesso andiamo a vedere questi segnalibri che questi qui sono tutti e tre provenienti dal trailer di Harry Potter e il calice di fuoco quindi adesso andiamo a vedere il primo, questo col laccetto nero cercherò di vederlo in controluce fantastico è scelto una scena bellissima si tratta della scena del calice di fuoco quando sono tutti riuniti nella sala grande e il calice di fuoco sta per rivelare i nomi dei vincitori bellissima, davvero bellissimo questo qui invece col pennacchetto qui argento vediamo quale scena abbiamo l'ingresso delle studentesse di Bubaton anche questo molto molto bello grazie, ha scelto davvero delle scene fantastiche e questo qui invece è blu ecco che abbiamo la prima prova troviamo Harry sulla sua scopa che viene inseguito dal lungaro spinato davvero molto molto belli mi piace un sacco l'idea e sul retro troviamo anche la descrizione titolo Harry Potter e il calice di fuoco anno 2005 regista McNeil durata 157 minuti momenti bui e difficili tendono presto dovremmo affrontare la scelta fra ciò che è giusto e ciò che è facile quindi anche citazione dal film ragazzi io li trovo davvero molto molto belli molto ben realizzati mi piacciono davvero tanto quindi non posso fare altro che consigliarveli qualora voleste anche voi nella vostra collezione dei frammenti di pellicola originale dei film di Harry Potter io ve lo straconsiglio grazie mille a Nadia per questo regalo davvero super super gradito secondo pacco ragazzi continuiamo a parlare dei nostri cari amici di poste italiane spero che un giorno mi contattino per collaborare ragazzi finalmente è arrivato il libro di Marina Lenti ve ne avevo parlato in uno dei video precedenti Marina Lenti ha scritto un nuovo libro a tema Harry Potter lei è una dei massimi esperti in Italia di Harry Potter e si tratta di Harry Potter a test ve ne avevo già parlato vi lascio magari il link sopra nelle schede si tratta di un libro pieno di test per divettirsi e mettersi alla prova per Potteriani naturalmente quindi giochi e curiosità dietro le quinte della saga è davvero un volume molto molto interessante io spero di farci anche un altro video per approfondirlo magari per giocarci assieme e troviamo tanti tantissimi quiz e giochi all'interno di questo volume tutti ideati da Marina quindi io non posso fare altro che consigliarvelo nuovamente e vi lascio anche di questo il link sotto in info box e poi per concludere ragazzi io ormai credo di aver bisogno di aiuto perché sono fissato con i calzini di Pampling e questa volta ho acquistato le buste a sorpresa ebbene sì buste da tre paia di calzini a prezzo scontato però totalmente random quindi vediamo quali mi avranno inviato questa volta li trovo divertentissimi sono davvero geniali escono sempre nuovi modelli con nuove stampe e quindi non riesco a trattenermi ecco qui tre per dieci euro questa è la promozione tre paia e dieci euro buttiamo il conto che è meglio non guardarlo e poi ragazzi ecco qui il primo pacco oh addirittura qui ce ne sono cinque sei sono tutti in una busta sei paia ok abbiamo quelli con gli ananas che non avevo quelli di Dragon Ball Pac-Man Harry Potter sono sempre graditi quelli con il motorino con la lambretta e poi quelli abbiamo questi con i teschi devo dire che mi è andata abbastanza bene l'unico che forse non mi fa fare salti di gioia è quello di Dragon Ball però devo dire buon coppo cinque su sei direi che sono indossabili quindi va bene e poi altra busta qui ne abbiamo altri sei abbiamo peperoncino pizza pinguini e queste di Totoro e poi cosa abbiamo Super Mario di nuovo Pac-Man ma devo dire che più o meno peperoncini ti avevo detto forse devo dire che più o meno sono tutti abbastanza indossabili non c'è nulla di eccessivamente orrendo e poi ecco qui un'altra busta qui ne abbiamo altri sei no uno due tre sei sì altri sei e abbiamo ok questi sono orribili questi qua dei Pokémon sono davvero proprio tanto tanto brutti e poi biciclettine ok Super Mario tutto sommato ok Space Invaders ok e poi cosa abbiamo Sonic ok più o meno direi che Sonic me li posso anche evitare e Spider-Man anche ok questa qua è una busta un po' sfortunata calzini di Spider-Man Pokémon Sonic ok questi qua magari li regalerò però devo dire che nel complesso tutto il resto mi piace io vi ricordo che su Pumpling utilizzando il codice 7Potter avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti presenti e futuri senza limite di spesa e naturalmente anche le spedizioni sono spesso gratuite o comunque 1-2 euro nulla di che e in questo momento non so se saranno ancora in atto le promozioni Black Friday ma praticamente stanno tirando via le cose quasi gratis ragazzi detto questo vi ringrazio per aver visto questo piccolo video unboxing ringrazio ancora sia Nadia che Marina per gli invi e naturalmente vi chiedo di seguirmi su Instagram antonio.seria trovate tutti i link sotto in infobox ve lo ricordo trovate anche la mia vetrina Amazon con un negozio nerd interamente realizzato da me suddiviso per categorie in collaborazione con Amazon e qualsiasi acquisto effettuato lì dentro mi vedrà riconosciuta una piccola percentuale che mi aiuterà a mandare avanti la baracca detto questo ragazzi grazie ancora contattatemi liberi di farlo commentate scrivetevi tutto quello che vi dico ogni volta e vi do appuntamento prestissimo con tante altre novità ciao 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 ciao